Non è che bisogna essere idealisti per andare da Maratea fino a Scansano, basta che una cosa la vuole veramente. Questo lo dicevano in un film sulla Basilicata e noi vogliamo veramente scoprire l'allianico del vulture. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento Teodosio di Cantina Basilisco. Siamo a Barile, in provincia di Potenza, dove Feudi di San Gregorio, famosa cantina campana, ha deciso di recuperare delle antiche grotte della zona, ricavate da terreni di origine vulcanica, adatti alla conservazione dei vini e così ha deciso di fondare Cantina Basilisco. Il Teodosio è l'allianico del vulture di fascia media, anche se per questo non è meno curato o meno studiato, ma si propone come un vino di largo consumo. In particolare, come potete vedere dalla scheda, questo è prodotto con 100% uve allianico, la nata in degustazione è il 2015 e la gradazione alcolica è di 13 gradi e mezzo. Come sempre, prima di degustarlo, diamo un'occhiata più da vicino all'etichetta. Ed eccoci a vedere la bottiglia più da vicino, Basilisco, Teodosio, allianico del vulture, etichetta nera che si confonde con il colore della bottiglia, con il simbolo della cantina, questa moneta che ricorda le monete romane antiche. Andiamo a girare la bottiglia per vedere, come sempre, le indicazioni obbligatorie di legge, quindi abbiamo appunto la denominazione, la nata 2015, il classico formato da 750, la gradazione di 13 gradi e mezzo e le certificazioni di vino biologico, quindi questo è un prodotto di agricoltura biologica. Ricordo che questo vino è in realtà prodotto, questa cantina è in realtà un'emanazione di feudi di San Gregorio e qui, a differenza di altre bottiglie, abbiamo la fascetta dell'indicazione della DOC. Vi ricordo sempre che il DOC non è obbligatorio, mentre invece il DOCG lo è. Direi che non c'è molto altro da aggiungere, possiamo passare a degustarne il contenuto. Partendo dal colore troviamo un rosso rubino sulle tonalità scure. Andiamo a sentirlo al naso. Note che giocano tra la ciliegia e la prugna, le spezie dolci, ma anche un accenno di terra bagnata. Andiamo a sentirlo al gusto. Vino di struttura, pieno, ma comunque equilibrato. Ritornano i richiami fruttati sentito al naso, un tannino non fastidioso, ma anzi piacevole, con un'ottima persistenza finale. E adesso, come sempre, andiamo ad assegnare i classici voti. Partendo dalla fascia di prezzo, questo vino prende 2 bottiglie su 5. Si trova in vendita tra gli 11 e i 13 euro la bottiglia, anche se in qualche occasione lo si può trovare anche al di sotto di queste cifre. Per la versatilità assegno 4 bottiglie su 5. Vino a tutto pasto, che però si esalta con i primi a base di ragù di carne, con i formaggi stagionati, con la carne rossa e, anche un po' a sorpresa, con la carne bianca e le crudità di carne. Cosa non semplice per un rosso strutturato. Sconsigliato ovviamente per i dolci e il fine pasto. Sulla facilità di beva assegno 4 bottiglie su 5. Vino da pranzo domenicale, da ricca tavolata, ma anche da momento più gourmet, magari con piatti raffinati. Si beve in maniera facile, ha spunti al palato interessanti e non è stucchevole o con sensazioni troppo spinte. Consiglio un'apertura anticipata di circa 15 minuti e una temperatura di servizio tra i 18 e 20 gradi. Arrivando infine al giudizio complessivo e vi ricordo come sempre personale su questo vino, assegno 4 bottiglie su 5. Un ottimo aglianico del Vulture, con un prezzo sicuramente interessante, con una buona versatilità e un rapporto qualità-prezzo molto alto. Tenerlo in cantina può rivelarsi una scelta giusta, soprattutto come vino autunnale e invernale, dove probabilmente dà il meglio di sé. Vi lascio il link al sito di Cantina Basilisco per avere una panoramica sui loro prodotti anche di gamma più alta. Bene, e anche oggi la nostra degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. E se avete qualche dubbio, qualche perplessità o volete un qualche consiglio su un vino da proporre a una cena con gli amici, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao alla prossima con Francesco su The Wine Channel.